Buongiorno ragazzi, vi do il benvenuto in questa modalità competizione vendetta su ruote L'altro episodio ragazzi di modalità competizione era vendetta su ruote ma strada Questo invece non è su strada e quindi siamo nel cielo Che bello il cielo ragazzi, mamma mia Allora, li vedo una bomba, una bombazza E' mia Ole, dove sono questi maledetti Cioè, beccatevi Un paio di bombe Piazziamole a caso Come ho detto anche nello scorso episodio Qui sarebbe stato bello vedere Wow Più La moto, la moto, la moto Più cose così Wow Dai esplodete maledetti Avanti Sì, mi ho fatti esplodere un paio No, almeno uno No, 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 confusione Porca vacca, a destra vai a sinistra Accelleri Beh, mi ha aiutato a schifare Nooo, che cavolo è che prende ste robe? Non capisco nulla raga Mi si invertono completamente tutti i tasti Accelleri va indietro Ok Tiè Esplodete male La vedi i razzi I razzi sono miei Non ho preso i razzi Bravo, li hai presi te Adesso mi esplodo Oh Vai di sotto Sì Sono riuscito a lanciarne uno di sotto No E poi Ho subito fatto una brutta Ma bruttissima fine Questa è la moto? Intendevo dire il potenziamento Non mi ero minimamente Preso conto Ah, questi sono i razzi Ecco, se lo faccio a maculazione raga Ok Ok, devo bloccarmi Le ultime parole Famose Allora Questo qui Occhio Che quelli lì hanno Le bombazze Dov'è che c'è uno? Ne vorrei prendere uno E lanciare di sotto Violentemente Occhio l'ha preso il turbo I razzi Vabbè È tempo di riparare l'auto Oh Mannaggia Via, via Fuggi, fuggi, fuggi Fuggi Ripara l'auto Prendi Grandissimo il carro No, abbiamo perso? Cosa è successo? Round vincitore Non me ne ero nemmeno reso conto Secondo round Ed ero troppo concentrato Nella gara Per rendermi conto Delle morti Devo stare molto attento Abbiamo 20 punti vita In totale In tutta la squadra Chiaramente Questo punteggio Poteva essere Aumentato Diminuito Si poteva fare In tutti i modi Possibili Immaginabili Beh, quello solo muore là Eh, daia Razzi a caso Mamma mia Mamma mia È come su Rainbow Che metti le trappole A caso E uccidi la gente Allora Adesso ci serve Un bel potenziamento Bello Aggressive Che cavolo è successo Raga Cioè Guardate Che robe Spettacolari Guardate Cioè No Quei paesaggi lì Sono mozzafiato Il fantasma Voglio il fantasma Posso sparare Anche da dietro O no Eh Sparavi Il mio compagniero Sda squadra Eh Maledetto Oh cavolo No no Hai preso i turbo Te Ah Bistardo Scappa Car armato Proteggimi Bravissimo Vai No Le bombe Non hanno Fatto Oh porca vacca Esci Effetto Chi è Piazzate anche le altre bombe Quello 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 È mio Ti è Morite Maledetti Confusione Di Be crazy Mamma mia Adesso vado a prendere anche la moto Uh Attenzione Guardate quanti Se ne fanno fuori No Mi hanno rubato la moto Che cavolo fai Guarda che le macchine vanno Che cavolo fa quello Ma ha preso il turbo La bomba Ok Riparazioni Eccomi Lanciamo le bombe Ok No Il potenziamento della moto È veramente OP Raga eh Perché c'è un buco No C'è la trappola Anche così Che spettacolo Dove si trova Voglio anch'io la trappola E la bomba È mia Esplodete Maledetti Come faccio ad attivarla Quello mi ha rubato i turbo Boom Volevo lanciare uno Dai siamo nove a due Due morti ancora per i viola La mia squadra è veramente OP raga È troppo OP Riparazioni Scudo Boom Boom Sì Ecco l'ultima Bazzucrata di Bistard Ci portiamo a casa La partita ragazzi Veramente bella Anche qua nel cielo Così abbiamo fatto Quella al porto Però 10.000 dollari in meno O perché ho fatto più schifo Boh Non lo so raga Comunque spero che Questo episodio vi sia piaciuto Questa modalità competizione È tanta roba Quindi commentate Condividete E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Al prossimo episodio